Ben trovati, dopo la doverosa pausa di ieri in segno di rispetto, di cordoglio e di lutto per la tragedia che ha colpito la comunità foggiana, torniamo oggi con la nostra pillola quotidiana, ex catedra, ma evidentemente non per parlare né di pallone né tantomeno del foggia perché sono due argomenti che in questo momento passano decisamente in secondo piano. Fiumi di lacrime sono quelle che in questo frangente sta versando la povera martoriata foggia, troppo spessa, scossa, attraversata da tragedie come quella che si è registrata nella notte di domenica dopo la partita di Potenza. Tre vite spezzate nel fiore degli anni. Samuel, Michele e Gaetano erano poco più che i ragazzini, avevano ancora tutta una vita di fronte da affrontare. avevano ancora tanto tempo da poter dedicare alla loro unica grande passione per il calcio, per il foggia, per quella maglia più in generale. Invece tutto ad un tratto è finito tutto. Vedete, in questo momento quello che più ci sconvolge, quello che più davvero ci atterrisce è immaginare cosa possano attraversare in un momento come questo le famiglie e i genitori, soprattutto che si vedono spezzati, privati soprattutto, di quelli che sono gli affetti più grandi, perché è vero, si dice che davvero il dolore più grande che si può provare è quello per la morte di un figlio e quindi restiamo davvero attoniti, senza parole, aspettiamo che passi del tempo perché il dolore si attenui. Nel frattempo, come era doveroso che fosse, è stato proclamato il lutto cittadino dalla Sindaca Episcopo per i funerali che dovrebbero svolgersi a questo punto nella giornata di domani e in fiera, lì dove già in passato si sono svolti funerali per altre vittime, tantissime, di una tragedia che ha colpito la nostra città, la nostra comunità. In questo momento di grandissimo dolore, due riflessioni, mi vengono da fare anche scultando l'orizzonte e vedendo un po' quello che è successo nelle ultime ore. Si è mobilitato letteralmente il mondo degli Ultras e questa è stata una cosa che credo abbia toccato un po' tutti. Dalla serie A alla serie D, un po' in tutte le piazze si è condiviso questo grande dolore. E evidentemente, ancora una volta, il calcio in determinate situazioni riesce ad unire. Ecco, questa grande tragedia ci insegna una cosa, insomma, che poi si può andare oltre gli antagonismi, si può andare oltre le rivalità del campo e magari ci si può ritrovare anche tutti sotto una stessa bandiera ed è quello che ci piacerebbe molto vedere spesso sui terreni di gioco. Sappiamo che è pura utopia perché poi presto si cancelleranno anche questi momenti che sono stati comunque significativi, però mi premeva davvero sottolineare questo passaggio che è stato particolarmente toccante. Il destino porterà il Foggia ancora in quel di potenza fra poco meno di due settimane. Già, perché fra due settimane il Foggia tornerà a giocare al Viviani, seppur contro il Sorrento che in attesa di riavere a disposizione il suo terreno di gioco si sta appoggiando fin dalla scorsa stagione proprio sull'impianto potentino. Ecco, immaginiamo che ci sarà inevitabilmente un'invasione di tifosi del Foggia al seguito della formazione rosso-nera e immaginiamo cosa potrà accadere in quella serata. In questo momento, prima di concludere, il mio pensiero va ancora alle famiglie colpite da questo lutto così profondo e soprattutto ai genitori che sono stati toccati davvero in maniera così forte. Ciao.